Avete sicuramente notato nell'ultimo periodo che quando si parla di 5G il tema principale è sempre quello della sicurezza. Nella maggior parte dei casi però, o quantomeno per quanto riguarda i fatti più eclatanti, arrivavano soprattutto da oltreoceano, dall'America, che imponeva dazi o divieti, ai quali poi la Cina, o più in particolare Huawei, principalmente la più colpita da questo problema di sicurezza del 5G, rispondeva e così via. Ma in tutto questo sorge lecito domandarsi come si pone l'Italia e cosa sta facendo l'Italia a riguardo di questo tema. Ed ecco che proprio a riguardo di questo, qualche giorno fa, nel corso di un'intervista a SkyTG24, è stato chiesto proprio al Presidente del Consiglio, Conte, di rispondere a riguardo della sicurezza nazionale a riguardo del 5G. Guardiamo insieme la risposta e poi approfondiamo un po' l'argomento. Ve lo chiedo proprio direttamente, noi dobbiamo aspettarci che anche in Italia Huawei avrà un ruolo nel 5G o non è così automatico? Non è così automatico nel senso che ancora giovedì scorso nel Consiglio dei Ministri abbiamo adottato un ulteriore provvedimento normativo che tutela ancora più efficacemente rispetto a quanto già in buona parte efficace facevamo in passato, il nostro perimetro di sicurezza nazionale. Soprattutto per quel che riguarda le infrastrutture che possono essere permeabili rispetto alla tecnologia cibernetica in generale. Da questo punto di vista oggi noi, e io come primo responsabile delle azioni di governo, sono anche responsabile dell'intelligence, sono quanto più determinato, ancora più determinato a difendere il nostro perimetro di sicurezza nazionale. Quindi siamo in una logica di mercato evidentemente, io non posso dire in termini astrati a prioristici a delle società che non possono avere accesso al mercato italiano. Però è sicuro che qualunque provenienza abbia quella società, qualunque composizione societaria abbia, io farò sempre valere la difesa degli interessi nazionali e adopererò tutti gli strumenti di cui ci siamo dotati da ultimo questo provvedimento di giovedì scorso per difendere gli interessi nazionali. Come avete potuto sentire, Conte cita un provvedimento preso la settimana scorsa. E noi in questo video parliamo e approfondiamo proprio questo provvedimento che è stato emanato sotto forma di decreto legge, che poi mi sono andato a leggere nella sua interezza e ho estrapolato un po' i concetti principali e più importanti che ora vi andrò a illustrare. Innanzitutto l'obiettivo di questo decreto è il seguente, disporre di un sistema di organi, procedure e misure che consente un'efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale. E questo non solo in relazione al 5G, che comunque viene citato esplicitamente all'interno del decreto, ma anche perché in questo periodo in Italia si stanno costruendo molte infrastrutture di telecomunicazioni fondamentali e strategiche per il futuro del nostro paese, sul quale quindi sarà necessario avere un occhio vigile, ma anche in relazione ai recenti attacchi alle reti di paesi europei ed infine anche per disporre dei più idonei strumenti per intervenire nel caso un problema di questo tipo venga a verificarsi anche nel nostro paese. Quindi spiegato il perché stiamo parlando di tutto questo, entriamo nel sodo, in ciò che il decreto introduce, ossia un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Ora, che cosa si intende con questo perimetro? Beh, effettivamente il concetto di perimetro è corretto perché possiamo immaginare una circonferenza all'interno della quale posizioniamo aziende private, aziende pubbliche, enti pubblici, eccetera. E tutti quelli che si trovano all'interno di questo perimetro devono rispettare delle norme e delle precauzioni a riguardo della sicurezza che sono state proprio definite all'interno di questo decreto. Quindi la prima domanda che uno si deve porre è Ok, ma chi si trova all'interno di questo perimetro e chi quindi deve rispettare le regole che vedremo dopo? Al suo interno potremmo trovare le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, privati o pubblici che saranno definiti e determinati nel corso dei prossimi quattro mesi, entro quindi la fine di gennaio 2020. Si saranno scelti attraverso due semplici criteri. Il primo è che il soggetto eserciti una funzione essenziale dello Stato, ovvero che assicuri un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato. Il secondo criterio è invece quello secondo cui l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, servizi informativi e servizi informatici, dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali o utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Ora, questi soggetti scelti attraverso questi criteri dovranno almeno una volta all'anno consegnare e redarre un elenco delle reti, dei propri servizi informatici e informativi, comprendendo anche la relativa architettura, ma anche la componentistica utilizzata. Ma non è finita qui perché, oltre a questo, e tutto ciò che vi andrò ad elencare ora sarà organizzato, in un certo senso, nei prossimi dieci mesi, quindi entro la fine di giugno 2020, saranno innanzitutto messe a disposizione di questi soggetti delle procedure per segnalare eventuali incidenti avvenuti alle proprie reti o ai propri sistemi informativi, in modo tale che si possa agire tempestivamente con un pronto intervento. Ed inoltre saranno anche stabilite le famose regole che abbiamo citato all'inizio, ossia quelle che dovranno rispettare tutti quei soggetti inseriti all'interno di questo perimetro. E queste le andiamo a leggere insieme perché sono veramente importanti e sono dei criteri volti a garantire alti livelli di sicurezza in relazione alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e alla gestione del rischio, alla mitigazione e gestione degli incidenti, alla loro prevenzione, e qui viene un punto molto importante, anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza, alla protezione fisica e logica dei dati, all'integrità delle reti e dei sistemi informativi, alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio, al monitoraggio, test e controllo, alla formazione e consapevolezza, ed infine all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology, anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale. Quindi sì, anche per motivi di prevenzione, ci sarà la possibilità di definire un cambio di componentistica, un cambio di hardware, nel caso quelli utilizzati non garantiscano il giusto livello di sicurezza. Ed inoltre sarà istituito anche un controllo a monte, fatto direttamente ai fornitori degli apparati di rete. Infatti questi fornitori, i fornitori si intende di quei soggetti che si trovano all'interno nel famoso perimetro, dovranno comunicare la loro intenzione di fornire il proprio hardware, il proprio software, e sulla base di una valutazione del rischio, il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale potrà decidere entro 30 giorni di imporre test e condizioni sull'hardware e il software. E nel caso in cui ovviamente questi test non saranno passati, ecco che l'accordo tra il fornitore e il famoso soggetto all'interno del perimetro non potrà essere concluso. Per quanto riguarda invece specificatamente il 5G, ecco che è stata predisposta la messa in sicurezza delle reti, che significa che anche nel caso di contratti già approvati, sarà possibile modificare o integrare le misure disponendo la sostituzione di apparati e prodotti che risultino gravemente inadeguati per la sicurezza nazionale. Queste quindi in conclusione le decisioni prese dall'Italia a riguardo del tema sicurezza. Io spero che sia stato tutto il più chiaro possibile, ma per qualsiasi approfondimento vi lascio in descrizione il link alla gazzetta ufficiale col decreto legge nella sua interezza.